Graziella Coletto, San Biagio di Callalta, provincia di Trevise, non Collalta, come ha scritto il nostro amico Davide laggiù. Agente immobiliare, da subito il via, argomento Sanremo, a lei. Grazie. 400. La N di Napoli. 2. Jolly. La C di Como. La vedo, una sola, prenda il Jolly. 400. La R. Una. 300. La P di Palermo. No, non la vedo. Ah, io so la soluzione, ho capito. Non ce l'hai capita? Sì, è strano. 300. H. Sì, è proprio quella. Non abbiamo più conto avanti. Allora, Sanremo. Posso chiedere una vocale? Vediamo un po', lei ha... sì, può chiedere una vocale. La E di Empoli. Le ne do proprio quella che non c'è. Mi spiace, mi spiace. Però gioca al Jolly. Allora, vuole un'altra vocale, ne chieda un'altra. Allora, la... Non può, non può. Non può chiedere un'altra. Perché non può? Perché ha solo 500 miele. E comunque, due vocali nello stesso giro, Jolly o non Jolly, non si possono chiedere. Tu sei proprio sicuro? Assolutamente. Non può. Allora, mette il Jolly e non può fare niente, no? Può dare la soluzione, però. Può dare la soluzione, allora? Si chiama... una volta si chiamava San Remel. Ma che Remel, il Rimmel, parla il Remel. Ma cosa ti dice, Graziella, vergogna. Non è un nome. Non è un nome. Concetta. Una volta si chiamava San Remolo. Remolo. Allora andiamo tutti a lei, San Remolo, evviva San Remolo. Si è corretta in tempo. Mamma mia, cosa dicono? Si è corretta in tempo. Passa la mano a Graziella. 300. La C di Como. Una. 400. La V di Verona. Una. 300. La N di Napoli. 5. Nel colpo. La dichiarazione dei redditi. È una statistica che hanno fatto sulla dichiarazione dei redditi. Jolly. La M di Milano. No, non c'è. Non c'è. Non c'è. Graziella. Brutte notizie per lei, signorina. Concetta. Allora, Graziella. Penso sia. Olio che non fa ingrassare. Bravissima, l'olio che non fa ingrassare. Lei fa uso di questo olio? No, devo farne uso. Beh, ma no, è una bella ragazza robusta, una bella ragazza veneta. Tra l'altro agente immobiliare, presto so che aprirà la sua agenzia. Grazie, è vero. Complimenti, eh. Allora, vince lei questa manche, va a un milione contro 5 milioni e 3 di Pira e un milione e 5 di Berndon. Graziella. Anche qui perdiamo. Concetta. Graziella. Ottocento. La C come Como. Tre. Tre. Due milioni. La B come Bologna. Una. Due milioni per lei. Eh, sta raggiungendo gli avversari, eh. Un milione. La P come Palermo. Non ce l'ho. Graziella. Anche lei perde. Concetta. Ok, allora dobbiamo salutare purtroppo Egidio, salutiamo Graziella, va bene? E adesso andiamo insieme alla nostra campione.